La biblioteca è il posto più tranquillo della scuola! Per favore, fate silenzio! Ma solo a prima vista! La bibliotecaria ha il suo mondo musicale nascosto sotto la scrivania! Ah, la mia canzone preferita! Aggiungiamo degli effetti speciali! Wow, lo vedi anche tu, Jules? Sembra che ci sia una vera rock star che vive dentro questa signora tranquilla! Avete preso F? Non posso crederci! Dovete recuperare! Sedetevi qui e studiate! E non parlate! Bla bla bla! Che noia! Ma i nostri video preferiti di Troom Troom sono divertenti! Una stanza segreta? Interessante! Il Barbara guarda! E se avessimo anche noi una stanza segreta, dobbiamo controllare! Uno, due, tre! Oh no! Mettiamoci in salvo! Au! Non me l'aspettavo! E io ho una grande idea! Sotto la scrivania c'è abbastanza spazio! Faremo la nostra sala hobby! Iniziamo disegnando un progetto! La stanza dei sogni di Giulia è audace e pericolosa! E Barbara vede tutto attraverso degli occhiali rosa! Giocattoli e decorazioni carine! Eccezionale! Fatto! Sono un genio! Non vedo l'ora di vederla! È ora di approvare il progetto per la futura stanza! Cos'è tutta questa roba carina? Sorella, è ora che tu cresca! Ah sì? Ecco qua! Prendi questo! Hai iniziato tu! No, tu! Ecco il tuo stupido disegno! E se... Giusto! Dividiamo la stanza a metà! Guarda Giulia! Ora sono entrambe felici! Non lo so... Anche se... Ok, affare fatto! Sì! Abbiamo raggiunto un compromesso! Ora al lavoro! Un tappeto carino solleverà lo spirito e creerà un'atmosfera accogliente! E ora mettiamo una tenda! E il nastro biadesivo sarà perfetto per appenderla! Wow! Facile! Finalmente non dovrò vederti! Ehi, non è divertente! Giulia adora i supereroi! Ciao, Spider Boy! Benvenuto nella tua nuova casa! E come illuminazione ho una striscia LED! Barbara adora i colori pastello! Quale luce devo scegliere? Oh, è perfetta! L'appendo qui! Oh mio Dio, bellissimo! Oh, cosa sta succedendo? È Giulia che cerca di infilare la TV! Lascia che ti aiuti! Fatto! Così ci sta! Ora qualcuno può giocare ai videogiochi tutto il giorno! Per Barbara gli accessori carini sono super importanti! È così carina! Non c'è mai troppa luce! Mi serve la mia adorata Kissy Missy! Ehi, sorella! Il salvadanaio dice che è ora di andare a prendere gli snack! Il Trum Market è pieno di cose gustose! Avanti, sorella! Prendi tutto quello che vuoi! Abbiamo ancora tanto spazio nel carrello! Sembra che compreranno l'intero negozio! Adoro le patatine e i marshmallow! Ehi, Jules! Sei sicura che possiamo mangiare così tanto? Per favore, state calme! Ehi, questo pacchetto è mio! Ma l'ho visto prima io! Ridammelo subito! Non è in vendita! Ad ogni modo abbiamo una cassa self-service! Io vado in pausa! Sembra che ci sia un angolo di relax segreto sotto il bancone! Ah, va meglio! Ehi, dov'è andata? Paghiamo gli acquisti! La melma è così rilassante! Sì, e il muro di Poppita è molto bello! Per non parlare dell'intera collezione di squishy! Almeno ora qualcuno è tornato in forma! Oh, non è facile fare la cassiera! Eccovi i miei tesori! Oh, è pesante! Oh, ciao! Penso che inizierà con le patatine! O con la Fanta! Perfetto! Ehi, cos'è quel profumino? Vuoi anche tu delle patatine? Ecco qui! Ehm, è una piantina! Va bene, sorella, serviti! Grazie mille! Condividere è fantastico! Non è vero, Jules? Onestamente, sì, lo è! Abbiamo gli snack! Significa che possiamo goderci il nostro canale preferito! Sembra che il luogo segreto abbia riunito due sorelle molto diverse! Rilassarsi è fantastico, ma qui non ci prendiamo giorni liberi! L'allenatore Alex non darà tregua alle sorelle! Più in alto! Più veloce! Più forte! Io non ce la faccio! Ottimo lavoro, Giulia! Ora alziamo il ritmo! Ora cambiate posto! Dai, cosa state facendo? Andiamo! E uno, due, tre, quattro! Continuate così! Aiutatemi! Ma in realtà, nel profondo, l'allenatore Alex è un aspirante giardiniere! Ciò che gli interessa davvero è curare il suo giardino! E ora faccio una foto per Instagram! Ho finito per oggi! Penso di averne abbastanza anch'io! Ehi, ciao! Oh, chi è? Siete voi? Ecco le vostre tessere! Ci vediamo al prossimo allenamento! Che ne dici di un cocktail rinfrescante? Prendo un caraibico, per favore! Oh! Oh, anche io! Ecco a voi, ragazze! I vostri drink! Il povero barista può solo sognare una vacanza su un'isola! Un giorno andrò sicuramente in un posto fantastico! Questo lavoro è così faticoso! È bello che ci sia una fantastica zona segreta sotto il bancone del bar! Uno spuntino tropicale! E gli ho detto Ehi, amico, ho sentito che sei un musicista! E ora una festa estiva! È giunto il momento di fare un live streaming dalla spiaggia! Ehi, ragazzi! Sto camminando sulla spiaggia! E il suono della chitarra hawaiana porterà a chiunque il buon umore! È ora di pensare a come divertirsi! Una PlayStation! Ecco cosa mancava! Barbara non rimane indietro! Wow! Adoro questo servizio da te! Che i giochi abbiano inizio! Oh, dai! Giocare con metà schermo non è una buona idea! Combattere alla cieca è frustrante! Non sbirciare! Oh, cielo, ho perso! Cos'altro posso fare? Freccette! Come ho fatto a dimenticarmene! Oh, quasi centro! Proviamoci di nuovo! Oh, Barbie è una vera icona di stile! E la nostra foto ha bisogno di un posto migliore! Ecco gli invitati! Possiamo iniziare il tea party! Giulia e Barbara sono maestre del travestimento! Ma questa volta qualcosa è andato storto! Conoscete le regole! Niente snack! Ora datemi tutto! Vi confisco questo cibo spazzatura! Direttamente nella mia casa segreta! Oh, e ora mettiamo alla prova le vostre conoscenze! Facciamo un test! Calma ragazze! Ashley vi salverà! È un database segreto con le risposte corrette nel suo nascondiglio! Il signor William sembra entusiasta di qualcosa! Ops! La penna è caduta! Finalmente posso assaggiare i loro snack! Il frutto proibito è così dolce! Mh, adoro le patatine! La verifica è quasi finita! Ehi Ashley, sbrigati! Ci siamo quasi! E il signor William si è lasciato trasportare! Ragazze, le soluzioni sono pronte! Ops! Sembra che qualcuno sia stato colto in flagrante! Prima il cibo e ora questo! Voi due andate subito nell'ufficio del preside! Che giornata! Dove ero rimasto? Sto per ridere! Anche io! Incontrare il preside della scuola fa sempre paura! Vi siete comportate molto male in classe! È colpa di Giulia! No, è colpa di Barbara! Ma è stata una tua idea! Zippe! Cos'è quello strano odore? Non ne ho idea! Sembra che anche il preside abbia la sua casa segreta! Ha sempre sognato di aprire la sua tavola calda! Non c'è niente da vedere qui! Compilate questo e riportatelo indietro! Accidenti! Quasi bruciavano! Ora aggiungiamo un panino! Oh! Cotta! E un po' di ketchup! Eccellente! Anche un po' di ketchup! Gnambi! Il tesserale è la cosa preferita della mamma! Ragazze, venite a tavola! Dove sono? Spero che non lo scopra! Spero che ce la faremo! Cosa ci fate qui? Brave le mie ragazze! Non vi disturberò! Ben fatto! Sì, ce l'abbiamo fatta! Beh, visto che stasera devo bere il tè da sola... Oh! Sembra che anche la mamma abbia il suo posto segreto! Cosa pensi potrebbe esserci dentro?